Se volete supportarmi su Fortnite, basterà andare nell'Item Shop, cliccare nel rettangolino in basso a destra e andare ad inserire il mio nome, ovvero Kratomis. Accettare e il gioco sarà fatto. Non appena avete inserito il codice, lo vedete scritto qui in alto a destra. Vi ringrazio tutti coloro che decidono di supportarmi. Ah ragazzoli, quasi me ne dimenticavo. Non dimenticate di seguirmi sul mio profilo Instagram. Fidatevi, non ve ne pentirete. Link in descrizione. Abbiamo fatto doppio clic sul tasto... Pingo un attimo lì, che c'è un lama. Ok, perfetto. Doppio moschetto verde. Veore è buono, vedi, non sto scherzando. Una R è veramente buona. Mi fa più male della K. Forza, ve lo. Bella Eri, buona sera. Mamma mia. Stai curando, se non me lo vengo a andare ora. Uno al drop e uno no. Vieni, 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 ci sei. Sono ancora in volo, sono ancora in volo. Headshot. Mi sento in testa. Madonna! No! Ah, cazzo. Eh, oh. Mi fulgo, mi fulgo. Ehm... C'è una sorpa. Mi serve una benda e una slurpa. Eh, sì, sì, guarda. Benda è qui? E' zorpa. Ok, apri il drop. Mi ha droppato anche un ripto, sto stronzetto. Non ho mai... Non ho mai laserato così di... In bloom, di R. Mai. Dopo 200 HP. Quanti colpi hai dato? Uuuuuh. Ok, butto l'SNG. Ah, chi ha quello di fronte a noi? Doppio hit di scar di body, se non sbaglio. Ho uno o due, massimo. Eh, c'è un'altra slurp. E io ho un RPG. E... Hai scudini? Sai gli scudini? Ne ho cinque. Ne ho cinque. Ok. Sono due palle. Fuori ce n'è una. E dentro una. Perfetto. Pallo, frate. Pari palle. Dunque a me non volete andare a vedere un modo di parlare troppo bello, c'è ti lo giuro. Non lo so. Oh, giù di qua. Minimi, 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 minimi. Easy. Sono easy questi. Lo lasero. Lo lasero malissimo. Vai, il laser. E' la serata a me. Ora, se tu, ferma. Seri? Ti dirò, minimi. Tampata. Dai, che porca puttana, però, il playground non mi piace. Basta, che scendo giù. No, no, scendo giù e faccio cadere tutta. Dai, dai, dai. Non so come, ma qualcosa mi inventerò. In seguito. C'era una sperone. Vinga, una per te. Tagli, guarda la zona. Un altro team. Tu vuoi il chiamo? No, me l'ho fatta spiegare un mostro di pazza. Vieni sotto, però. Vieni sotto sotto. Sapevo che lo faceva. Due da me? No. Ma, non ho cure. Due da me. Vieni qua. Ti dirà su dietro. Vai, mini. Sono sceso sotto. Vieni sotto. Vieni sotto. Passare sopra. Cento di max. L'ho toccato? Eh, sì. Ehi, l'ho messo. Ok, l'altro. Mamma mia. È Razziro. Gigi. Ho fatto Razziro e l'altro. L'altro l'ho messo tipo... Eh, bella. Ci sono di un Dard. Razziro e Gudula e Kaisa. Oh, quanto mi dispiace. I'm gonna fucking time. Comunque... Ti hai dato un Dardo ed è morto. Mini. Sì, il Sotto. Vabbè, vai, Razziro. Ci vediamo nei G2, XT. No, scherzo. Niente toxic. Sì. 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 Oh, madonna, che signora. Sì. Sì. Mi apri? Apri? Please? Vabbè, faccio il giro, faccio il giro. Sì. Sì. Vai, che ti apro. Pusha. Gigi, vabbè. Sglappra. Puoi fare palle e palle. Puoi superi palle? Oh, madonnina. Se vieni qua, sono safe. Vai. Mettiamoci gli scalini. Vieni, 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 come vieni. Perfetti qua. Vieni, 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 vieni. Ci sei. Ora vuoi ci serviva palle, ok. E qua dentro. Sgulla pure il mattone adesso. WTF, me? Ah, non barrette lanciarazzi. Sì, si sopra proprio. Vieni, vieni. Vieni, vieni, vieni. Che sono worried che solo i protecting. Quindi, è stata a corte. Atacca al tapport. Atacca al tapport, bradel. Atacca al tapport. Sono attesa da fare il redeploy e buttare in medikit. E andare a med지를 accountability con le RPG. Non so perché ho questo presentimento. Vabbè, un rift, dai. Mamma, perdona, sta vita Io mi paro col metallo Dopo per buildare Quando è pezzo dobbiamo muoverci? Bacca? Eh, punto Piano e piano Ma questo? Questa è che mi spara Questa è solo Sicura Ma safe Andiamo, dai C'ha il posizionamento No, no Hai scelto? No, ma prenditi sta palla L'ho lasciata ora No Mi metto sotto qua Mi buildo e mi culo Ok, ricarico più caldo Vabbè, la palla è andata La mia palla è andata Mi sono usciti Devo ristare Oh, sono morta Ah, un HP Vabbè, muore comunque Credo Da caduto Eh, se cacciano l'albero L'hanno killato Quello là che mi ha ucciso Eh, ho sparato entrambi Eh, ho sparato entrambi Ho 50 HP Devi partire Meri Che z Fai sull'albero Vai, tiratelo, tiratelo Devi togliere l'albero E tirare i razzi sotto E toglilo di scala Se non ti va il piccone Devi tornare proprio dietro No, non è vero Non c'è la mia dietro Vai, tiratelo Spammalo, spammalo GG GG C***o 1v1, eh GG Troppo a EZ Comunque Avere il lancio razzi A serene ground Richiede una skill Veramente insana Troppo difficile usare Come si fa? Mi senti? Vabbè Omega f***ing lul Omega f***ing lul Omega f***ing lul Ehm Ehm